Ed è un brusco risveglio per i mercati finanziari dopo la notizia e il discorso di ieri della Federal Reserve si svegliano con il segno meno e finisce la galoppata dei mercati USA ma anche quelli europei che nella scorsa settimana avevano iniziato a alzare anche la testa finisce questa galoppata e incomincia una fase di riposo ieri c'è stato il classico meccanismo che viene definito, se non erro ragazzi, Whip Sew cioè quando un mercato va verso una direzione e poi immediatamente viene attaccato dalla forza in questo caso degli orsi che l'hanno spinto giù, quindi Whip Sewed si dice così quando avviene questo tipo di meccanismo ed è quello che è avvenuto ieri dopo il discorso della Fed, io ero davanti ai grafici ragazzi perché stavo gestendo alcune mie posizioni, ieri durante la live che abbiamo fatto con i ragazzi di CoinShare con Tiziano e Filippo, avevo indicato infatti la chiusura di alcune posizioni su Nasdaq proprio perché avevo visto questo atteggiamento ma perché i mercati sono crollati nella giornata di oggi poi parlare di un cambio di trend in questo momento è assolutamente fuori concetto quindi non è giusto ma i mercati sono crollati nel momento in cui in pratica c'è stata una ripresa del virus sulla notizia che il virus ha rialzato la cresta in America, negli Stati Uniti i ragazzi ha fatto un colpo di coda, sono riaumentati i casi e poi in virtù del fatto che la Federal Reserve in pratica ha detto che la ripresa dopo questa grande crisi sarà estremamente lenta, più lenta forse di quello che il mercato sperava è anche vero che hanno pubblicato i dati sulla GDP, quindi sul PIL che sono in previsione come crescita per il 2021 e il 2022 però forse ragazzi il mercato si aspettava qualcosina in più poi le politiche della Federal Reserve di emissione di liquidità sono rimaste totalmente le stesse soprattutto quelle inerenti ai bond quindi tutti vanno sui treasure e sugli obbligazionari però in pratica io credo che il mercato si aspettasse un'idea generale di quello che era la ripresa economica leggermente più veloce il miscuglio combinato di questa idea della Federal Reserve quindi di queste previsioni di PIL un po' più basse della stima di quello che il mercato sperava con mischiata a quello che è poi il discorso della ripresa del virus che è veramente l'unico punto debole di questa ripresa ragazzi la parte esogena cioè il virus che torna più forte di prima allora lì non ci sarà scampo per i mercati finanziari quindi quella è la vera vera paura già si vede appena alza la testa immediatamente boom ma poi chiediamoci se è vero o meno che questa tipo di fase di basista può continuare anche nei prossimi giorni quindi andiamo sui grafici ragazzi perché facciamo le considerazioni da un punto di vista di analisi dei prezzi e vediamo se effettivamente sta cambiando qualcosa vi faccio anche notare che siamo in prossimità di una scadenza ciclica su S&P 500 ma anche Nasdaq e quindi di conseguenza ragazzi tutti i mercati perché seguono in sincrono quello che fanno i mercati americani c'è una scadenza ciclica che dobbiamo valutare e ci potrebbero essere delle giornate di forte turbolenza quindi attenzione in questo momento facciamo il punto della situazione e ragioniamo su tutti questi vari tasselli che vi ho detto cerchiamo di unirli dietro di me c'è il Nasdaq 100 intanto ah sì ragazzi poi alla fine del video vedremo anche Bitcoin quello che sta facendo perché in realtà in questa sua fase di letargo ragazzi ne sto parlando poco perché è tutto fermo e quindi non serve dare nuovi aggiornamenti anzi sono inutili quindi dedichiamo il nostro tempo a quello che è utile è una cosa splendida da fare e quindi insomma lo aggiorniamo Bitcoin però vedremo che si sta comportando anche discretamente anche se non so se reggerà un eventuale crollo nei mercati old allora andiamo a vedere dietro di me intanto il Nasdaq 100 e allora il Nasdaq ragazzi che cosa fa ieri? fa il suo massimo storico e poi subisce appunto questo meccanismo è stato whipsword cioè è stato buttato giù esattamente dai orsi che hanno ripreso il tono allora intanto è da notare in maniera abbastanza evidente ragazzi come la linearità di questa ripresa dei mercati finanziari sia frutto anche delle grandi emissioni di liquidità perché sembra computerizzata ora molti di voi magari diranno sì insomma è normale i mercati salgono così ma non è del tutto vero quando i mercati assumono un trend ragazzi comunque oscillano intorno a sbalzi di eccesso quindi da una parte e dall'altra un po' come avevano fatto qui vedete in questo punto boom poi ritornano indietro poi ritornano indietro poi ritornano indietro comunque oscillano questo che abbiamo visto dalla metà maggio in poi in realtà ragazzi sembra un pilota automatico immesso vi volevo far notare tra le altre cose che il mercato non fa spesso delle close di candele rosse come vedete e sono distanziate da un sacco di giorni ragazzi vedete qui sono stati una decina di giorni qui 4-5 giorni insomma è difficile che il mercato vada a fare queste candele rosse e subito dopo il giorno dopo viene subito comprato questo vuol dire che il mercato è molto forte perché gli swing ribassisti come vedete vengono subito comprati dal mercato questo significa che c'è una grandissima forza quindi attenzione ad andare contro un trend del genere perché è possibile che sia di nuovo un po' la candela come è stata fatta qui un po' come è stata fatta qui che è stata l'ultima correzione più importante e poi il mercato bam ci dà uno schiaffo in faccia con un nuovo trend rialzista quindi seguiamo sempre il trend ragazzi una delle regole che è fondamentale quando siete indecisi quando non sapete che pesci prendere è questa seguite sempre il trend predominante grafico daily o weekly quello che è il trend seguitelo sempre quando cambia chiudete l'operazione lo so è banale però è fondamentale ragionare in questo modo bene allora andiamo adesso di nuovo al grafico vi faccio vedere la screnza ciclica e poi vediamo la stessa cosa su standard and pull su 500 ragazzi allora intanto super pullback il Nasdaq potrebbe farlo in questo punto quindi intorno a questa fase di minimo qui questa fase scusate di massimo cioè la sua vecchia resistenza storica il suo vecchio massimo storico che è intorno ai 9800 punti quindi ragazzi un po' di discesa c'è ancora insomma dovremmo scendere altri circa 200 punti dagli attuali valori quindi più o meno un 2% potrebbe ancora farlo non è neanche detto ragazzi che ci arrivi guardate quanto è forte questo mercato è addirittura sopra la sua media non riesce neanche ad avvicinarsi alla prima media questa è una media esponenziale a 10 periodi 11 periodi quindi è insomma ragazzi fortissimo ma la screnza ciclica cosa ci dice allora ragazzi vedete questo è anche il motivo perché io ieri ho chiuso delle posizioni sul Nasdaq 100 l'ho detto appunto anche in diretta ieri sulla live perché avevo paura di essere whip sawed appunto e ho un po' paura di questa struttura ma sono ancora con una piccola parte esposto su degli ETF quindi comunque sono rimasto con dei piccoli pezzi all'interno del mercato ma la parte trading l'ho chiusa in attesa di vederci chiaro da alcuni punti di vista e con l'attuazione di price action in questo momento poi farò le mie conclusioni allora ragazzi qui siamo a metà di questa fase ciclica vedete a metà 1 2 però non è detto che questa metà coincida con un massimo fatto e quindi il mercato vada a fare in sostanza poi da qui soltanto una fase di discesa o laterale di bassista non è detto perché potrebbe essere una fase semplice di metà ciclo e poi un nuovo massimo che potrebbe avvenire anche nei prossimi giorni prima di questa fase ciclica quindi è tutto da vedere questo significa che se da un punto di vista di trading a livello di time frame inferiori per esempio al daily magari usare un 4 ore ci sarà un'inversione dopo la giornata di oggi magari vediamo anche domani ci sarà un'inversione e beh ragazzi si va in buy si va in long di nuovo per chi fa trading perché questo mercato l'abbiamo visto è fortissimo quindi va in nuovo long e nulla vieta appunto di poter tornare a fare nuovi massimi prima di questa fase quindi questo momento è un po' critico perché potremmo aver fatto effettivamente un massimo e poi andare a riposare magari in una fase discendente ma potrebbe anche essere ancora potrebbe esserci ancora pista per andare avanti per fare nuovi massimi sul Nasdaq 100 diversa la situazione per S&P 500 ragazzi più debole del Nasdaq perché vi faccio capire intanto la situazione di lungo periodo dell'S&P era diversa perché Nasdaq aveva fatto un trend ciclico comunque rialzista l'avete visto qui se vi ricordate qualche video precedente ve l'avevo fatto vedere quindi la possibilità di rompere i massimi l'avevo indicata già da marzo ragazzi quindi da questa fase qui vi avevo detto che era possibile andare sopra i massimi diverso S&P ragazzi perché S&P nel in questa fase ha un trend che è di questo tipo vedete quindi ha fatto un ciclo ribassista quindi se questo mercato non supera i massimi storici e ci può stare ragazzi perché potremmo andare a fare un annuale che dovremmo poi vedere in corso potremmo avere di nuovo un annuale un po' difficile per S&P 500 quindi mentre Nasdaq è più forte in questo momento è l'S&P un po' meno forte anche qui ragazzi allora c'è stato un ciclo chiuso a metà in questa parte qui quindi intorno al 15 maggio da qui è partita una nuova fase che dovrebbe concludersi intorno al 10 di luglio quindi la prima decada di luglio poi i mercati old vanno sempre visti ragazzi perché sono stramanipolati dalla Federal Reserve lo avete capito ormai quindi allora bisogna stare attenti ad andare contro trend anche qui trend è estremamente rialzista però vedete il mercato è più debole intanto sono tre giornate di ribasso e insomma ragazzi è consistente questa fase tra virgolette insomma comunque un rimbasso sicuramente più importante di quello del Nasdaq dove potrebbe arrivare questa fase di ribasso potrebbe anche indirizzarsi in pratica in questo lasso di spazio quindi fra più o meno i 3100 e i 3020 quindi potrebbe andare in sostanza in pullback sui 3000 punti ragazzi che erano stati la precedente resistenza che vedete qui aria di resistenza che aveva tenuto SP fortemente sotto ma ragazzi poi la manipolazione rialzista è importante in questo caso e quindi può essere che non ci arrivi mai insomma ve lo dico chiaro allora questi mercati sono fortemente manipolati in questo momento ma hanno anche una direzionalità indicata da alcune aspettative di ripresa economica magari farò un video proprio dedicato solo a questo perciò dobbiamo essere anche in grado di capire la differenza fra l'analisi tecnica e l'analisi tecnica da fare e da attuare su un mercato manipolato quindi state sempre attenti anche qui ragazzi un'eventuale ripresa di questa fase ciclica che vi faccio vedere dovrebbe andare in conclusione appunto qui in questo punto qua l'eventuale ripresa di un trend potrebbe nuovamente fare un nuovo massimo per poi magari andare a fare la chiusura laterale ribassista o ribassista questa view è quella rialzista per S&P 500 ma essendo più debole di Nasdaq potremmo anche avere un ciclo che ha già fatto il suo massimo ragazzi quindi una ripresa che non ce la farà e quindi un ribasso più pronunciato questa è una view più neutrale per quanto riguarda S&P 500 dobbiamo perciò stare attenti in questo momento maggiore forza relativa su Nasdaq quindi se volete tentare delle operazioni di ripresa magari sarebbe meglio provarle su Nasdaq 100 questo oppure su singole stocks magari dell'S&P 500 che sono magari più forti perché hanno dato di meno nel rialzo precedente ragazzi perché poi Nasdaq e S&P condividono alcune aziende le più importanti in pratica bene questo è il punto sui mercati americani guardiamo il volo adesso bitcoin è quello che sta facendo allora ragazzi bitcoin è in una fase di terra di nessuno perché è dalla giornata del 29 aprile che sta sopra gli 8000 e sotto i 10.000 quindi oscilla in questa situazione di nulla e ce lo dice anche la media mobile questa qui è una media 200 periodi che è totalmente piatta ragazzi però è anche vero come vi ho detto lunedì nel mio video di analisi sui mercati cripto che questo mercato è tanto tempo che è sopra la media 200 periodi ha fatto anche un golden cross potrebbe essere quello valido io sono positivo sui mercati cripto perché l'albing è stato gestito molto bene in questa fase ci sarà nei prossimi giorni addirittura un aumento della difficulty questo non me lo aspettavo devo essere sincero è probabile che questa cosa diciamo possa sostenere i prezzi da un punto di vista ciclico il problema perché la fase di bitcoin non è pulitissima quindi non riusciamo a capire che sta facendo diciamo in pratica ecco ragazzi quindi in sostanza non sappiamo se seguirà in questa fase qui verso fine giugno ma anche verso la decada di luglio seguirà i mercati old se diciamo ci sarà una fase anche di bitcoin relativa ai mercati old potrebbe avere questo tipo di atteggiamento quindi un ciclo ternario ma di questo ne voglio parlare lunedì dove faremo un video dedicato solo e esclusivamente alla fase ciclica di bitcoin bene ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere anche voi quello che pensate e come vi state muovendo sui mercati old e scrivetemelo nei commenti come sempre sui pollicioni e scrivetevi se ancora non l'avete fatto ciao ciao